Iankulowski dentro per Kaká che accelera, Kaká è nel del rigore, palla sul sinistro, rete, 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 Kaká il timbro del fuoriclasse, 1-1 E qui ha fatto uno scatto senza palla e Sedolfo lo ha visto, lo ha servito con i tempi giustissimi e Iankulowski si stava inserendo a sinistra quindi la difesa del Manchester United doveva preoccuparsi anche di lui, si è allargata, Kaká si è inserito alla perfezione e poi di sinistra ha preso sul tempo il portiere molto molto bravo, infatti qui sembra un errore di Vandersano invece è un calcio sul tempo, sul passo fermo del portiere non può fare niente, guarda il portiere lì fermo non può buttarsi